Guardati un po' con l'argento e con l'oro. Già lo vediamo no? Cosa sta bene e cosa no. Vedi l'oro come ti sta male rispetto a... A me piace l'argento. Vedi? Cioè proprio nel tuo caso si vede subito. Come questo ti sbatte e come l'argento invece ti illumina. I colori freddi proprio. Brava. Sicuramente. Mamma mia questo è inguardabile. È tremendo. Sì. Proprio ti fa quasi l'incarnato verde. Anche i beggiolini, quei colori lì. Tremendo. Ok, quindi abbiamo definito che tu appartieni sicuramente a una stagione fredda. Adesso vediamo se sei una winter o se sei una summer. Secondo me sei una summer, però adesso vediamo. Questa assolutamente no. E questa assolutamente no. Sarebbe la primavera e l'autunno. Adesso ti faccio vedere. Allora. Guardati con questa. Adesso la valutiamo insieme. Oppure questa. Forse mi vedo di più con questo. Ecco. È una summer infatti. Cioè ho visto così. Così a occhio mi vedo di più con questo. Assolutamente. Perché se no vedi che questo qui. Un po' troppo. Guarda come il bianco e il nero predomina rispetto al tuo viso. Invece questo qui è molto più equilibrato. Cioè quello che spicca il tuo viso, i tuoi occhi. Ok. Quindi c'è una summer. Allora. 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 Allora.